Buonasera a tutti, 8 luglio, una serata milanese affosa, tendente al grigio, ma insomma un po' di bel tempo lo andiamo a immaginare. Sono con Stefano Blanco, che è, vi dice lui esattamente? Direttore generale della Fondazione Collegio Università Milanesi. Che riunisce, mi stavi raccontando? Sette università di Milano, una serie di enti pubblici, Ministero, Regione, Comune e una serie di aziende private che contribuiscono alla Fondazione. E ha come obiettivo il merito, mobilità sociale, internazionalizzare il sistema universitario e da vita il Collegio di Milano. Ecco, posso dire una cosa? Mi piace moltissimo la prima parola che è stata fatta in elenco, quella del merito, che credo che sia una parola oggi che stiamo cercando tutti e particolarmente, voglio dire, ben si adatta alle università milanesi. Assolutamente, il merito dovrebbe essere una parola chiara, in cima alla lista, chi governa anche i processi di questo paese. Non è sempre così, ma cerchiamo ognuno di portarlo avanti, soprattutto quei giovani. Di fare la propria parte, esattamente. E la Fondazione come si occupa di queste università? Allora, si occupa in particolare attraverso il Collegio di Milano, che è un campus interuniversitario di merito, riconosciuto al Ministero, e che raccoglie circa 120 studenti di qualità delle sette università, a cui offre residenza e una formazione complementare al percorso universitario. Quindi con voi si può avere una sorta di appoggio, informazione rispetto a tutta la vita universitaria milanese, rispetto anche a tutti i sistemi e le possibilità di... Oltretutto si può avere una residenza, quindi si alloggia nel campus, si ha una formazione complementare, una serie di servizi, scambi internazionali, placement e tutorship, e quindi serve proprio a dare delle opportunità a studenti motivati di talento e che magari non hanno i mezzi per poterlo fare da soli, e noi li aiutiamo per fare questo. Parliamo di un sistema universitario che fa molto pensare a quelli che sono i campus e i collegi anglosassoni. Assolutamente, l'idea è proprio nasce dai campus anglosassoni. Da quanto esiste la Fondazione? Da circa 1-8-9 anni. Questa sera siamo qui per un evento in particolare di Convisture Bè. Siamo qui per un evento in particolare che è l'Infas, perché insieme alla Fondazione Accenture abbiamo organizzato questo bando, questo concorso legato all'agricoltura e tecnologia. In vista di Expo 2015 andrà a premiare le migliori start-up che giovani under 35 promuoveranno sui temi di tecnologia e agricoltura. Quindi anche voi siete collegati al grande tema, al topic dell'alimentazione. che è quello che legherà tutto il filo di Expo. E anche voi state seguendo ovviamente le iniziative di Expo come stiamo facendo tutti in questo momento. Sì, abbiamo stipulato da qualche anno un protocollo di intesa per la Expo 2015, quindi siamo da diversi anni dentro questo sistema. Da quanto è aperto il concorso? Il concorso è aperto da qualche mese e sarà aperto fino al 17 settembre. Perfetto, quindi poi daremo tutti i link per poter presentare. www.idea360.it www.idea360.it Che è dove possono trovare tutte le informazioni relative al concorso. Perfetto, e anche per l'application. Quanti progetti avete già ricevuto? In questo momento il bando non si è ancora chiuso, sono comunque già più di decine. Speriamo di arrivare a un centinaio. Ricordo che anche nella passata edizione il bando di Accenture era stato molto molto partecipato. Anche l'anno scorso abbiamo fatto insieme a Accenture un bando sulle foreste, anche di 30.000 euro al progetto vincitrice ed erano circa un centinaio. Allora, in bocca al lupo al prossimo vincitore di questo Linfas insieme ad Accenture, grazie al Collegio delle Fondazioni Milanesi per tutto quello che stanno facendo per far diventare questo percorso universitario un percorso importante, attento al merito e soprattutto attento all'intelligenza e ai cervelli che speriamo rimangano qui da noi. Assolutamente, grazie a te. Di nuovo, grazie ancora. Sì, speriamo di avervi ancora sulle nostre pagine di Asso Digitale. Grazie.